Oggi mi trovo nell'azienda di Pasotti Luca, del Podere Sartona, sita nel limolese, produttrice di kiwi verde, varietà Ivard. L'azienda coltiva circa 25 ettari ed è socia di Ortolani Coffri. Da dati ufficiali CSO la superficie a livello nazionale del kiwi è leggermente stabile negli ultimi 5 anni. Se noi invece dettagliamo le varie varietà c'è un leggero calo, sempre a livello nazionale intendo, delle varietà verdi e un aumento, diciamo in dubbio, delle varietà a polpa gialla e a polpa rossa. L'Emilia Romagna per fortuna, visto che ci troviamo qui, è abbastanza costante, diciamo che non ha subito questo calo delle superfici come invece accade in certe regioni, nelle altre regioni dell'Italia. L'ufficio tecnico dell'Ortolani Coffri, quindi più forte che mai di avere questa specie a conferimento, continua e prosegue i propri controlli qualitativi in campo, perché questa azienda, questo lotto, diciamo è stato sbloccato da precisi, diciamo, test qualitativi che noi facciamo. Pertanto andiamo ad analizzare nel dettaglio per ogni lotto, per ogni azienda, il grado BRICS e la sostanza secca. È come se facessimo un identikit della qualità delle nostre aziende produttrici di kiwi. I soci di Apoconerpo stanno coltivando circa 2.400 ettari in tutta Italia, dalla Calabria fino al Friuli. Le zone principali di coltivazione abbiamo l'Emilia Romagna, il Lazio, poi la Calabria e il Friuli, diciamo, queste sono le nostre zone dei nostri soci. Le superfici, abbiamo avuto il boom di superficie nel 2018 con 2.600 ettari, che poi sono calati di circa un 10% in questi ultimi due o tre anni. Il calo è stato dato principalmente dalla riduzione degli impianti di kiwi verde, mentre sono aumentati gli impianti di kiwi giallo, sia il Vespri Gold che il Jintao. E attualmente stiamo provando, stiamo testando un po' di impianti di kiwi rosso. Attualmente forse il kiwi è l'unica cultura che ci permette un certo reddito, per cui nel catastroco complessivo di Apoconerpo direi che è forse l'unica cultura, che al momento le culture arboree che hanno tenuto come superficie.